Un'app, ovvero le applicazioni scaricabili sui telefonini di ultima generazione per prevenire i fenomeni di bullismo o del più subdolo e strisciante cyberbullismo dei leoni da tastiera. La più innovativa e rivoluzionaria delle possibilità che gli smartphone e tablet mettono a disposizione dal punto di vista della comunicazione viene in soccorso di psicologi, docenti, genitori e personalità fragili che subiscono gli effetti di questa piaga del ventunesimo secolo, grazie all'iniziativa dell'Associazione Vento che ha commissionato a una software house di elaborare questa applicazione. Indirizzata per ora solo alle scuole, in pratica consente una sorta di gioco in rete in cui le energie negative di potenziali stalker adolescenziali vengono coinvogliate in una sana competizione tra scuole e dove le caratteristiche negative di certe personalità come leadership, aggressività, voglia di emergere e primeggiare siano utilizzate in funzione della competizione prima che i bulli ahimè decidono di convogliare questi aspetti negativi della loro personalità come spesso accade per seviziare virtualmente o anche purtroppo fisicamente singoli soggetti giudicati più deboli o perdenti. La chiave di volta di questa proposta sta nel fatto inoltre che spesso i bulli dell'etere una volta scoperti o smascherati perdono, come Sansoni persi i capelli, tutta la loro forza e mollano la presa, come dimostrano recenti studi osservazionali in questo ambito. Fano, essendo patria dell'associazione promotrice, sarà il terreno di sperimentazione di questa applicazione che in futuro potrebbe essere allargata a tutti gli istituti scolastici del territorio, avendo già ricevuto da alcuni funzionari del ministero un discreto interesse. Questo ovviamente è un'app che scaricata permette di entrare in contatto ai ragazzi, quindi nel gioco, attraverso la sfida, attraverso vari effetti che l'app produce e quindi di giocare in una sfida che è quello che a loro piace e rendere visibile l'invisibile, questo ci raccontano. L'app vuole veramente dirottare i giovani su cose, sullo strumento utilizzandolo in forma molto più positiva. Ovviamente quando sarà testato verrà presentata l'app nei dettagli e quindi sarà più comprensibile per giovani e adulti utilizzarla e davvero vedere anche l'efficacia che potrà avere.